L'amore ha il profumo dei tigli, dolce, evocativo, tenero. Lorenzo e Adele, due giovani calabresi, si incontrano all'università di Messina negli anni 70. Nasce una storia d'amore sul vagone di un treno. All'inizio sono sguardi timidi per poi trasformarsi in un dialogo, quello tra due giovani che vogliono cambiare la mentalità e la visione del mondo. Di questo si parla nelle pagine del libro dello scrittore di Locri, Domenico Angilletta. Ho voluto cogliere certi tratti di quella generazione a cui io faccio parte e poi soprattutto scrivere quella città, quella situazione, quelle circostanze, quel clima, quel periodo. Il libro sentimentale di Angilletta a tratti autobiografico è stato presentato al terrazzo Pellegrini, alla presenza degli studenti del liceo scientifico Fermi. Un'occasione per parlare di sentimenti disconosciuti al mondo dei più giovani, inglobati in una società che viaggia velocemente ed occulta i veri valori. In questi tempi l'amore fugge, l'amore è quello mordi e fuggi, è un amore veloce e loro spesso non hanno veramente contezza di questo amore. Invece questo libro racconta un amore tenero, anche se poi finisce, ma soprattutto un amore fatto di tempi lunghi, di dialoghi, di conversazioni. Grazie 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 Grazie